pulcino a oca che caga pulcino a oca che caga ci sentite ci troviamo nello sbocco del cunicolo numero 15 l'odore insopportabile c'è un forte odore di soffritto ecco ora vediamo la creatura oca che caga stiamo aspettando disposizioni ok ora il tenente neutro roberts sta cominciando a caricare le 58 testate a base l'asonil per colpire ecco è pronto ora il tenente prende il suo zaino carico di testate e si sta avviando in questo momento molto molto lentamente verso l'essere mostruoso sta scendendo giù ora per il dirupo sotto di noi scavalca scheletri umani rovi ortiche immondizia napoletana l'accidente non ci voleva porca c'era no 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 pulcino cosa succede attento 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 pulcino io che caga cosa sta succedendo cosa succede niente falso allarme ha pestato una merda bene procedete con il piano sono momenti di tensione altissima qui noi stiamo tutti sudando copiosamente mentre guardiamo il nostro compagno che si avvicina a carponi lentamente alla creatura fortuna vuole che l'essere mostruoso sta mangiando quattro salami depredati alla macelleria squarto di giovanni squarto ecco il tenente ormai è vicinissimo accidentaccio speriamo che vada tutto bene sta sta tirando fuori le testate agite con cautela agite con cautela ecco le posiziona le sta posizionando una ad una fate attenzione lentamente tira i capi piano piano scherzetto ma affanculo 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 Grazie a tutti